benvenuti sono monica scannapieco della direzione centrale per le metodologie e i processi statistici dell'istat e sono qui con la professoressa monica pratesi che ci parlerà del tema citizen science per la statistica ufficiale la professoressa pratesi è una professoressa ordinaria dell'università di pisa ha un phd in statistica applicata ed è un componente del consiglio dell'istat e da tempo quindi lavora con noi fianco a fianco su tanti fronti è membro dell'international statistical institute dell'isi del presidente eletto dell'international association of survey statistician ed è stato presidente della società italiana di statistica ha una grande esperienza di ricerca e anche in particolare su metodi di indagine e su statistiche sulla povertà e recentemente anche sul tema della citizen science da tempo collabora anche con eurostat su tanti temi di frontiera ed è stata anche membro del comitato scientifico della conferenza npps new techniques and technologies for statistics nell'ambito della quale questo tema è stato più volte affrontato prima di lasciare la parola alla professoressa pratesi volevo introdurre brevemente cosa come istat stiamo recentemente facendo in merito proprio alle possibili interazioni nuove forme di interazione con i cittadini ora in passato i cittadini venivano coinvolti principalmente come rispondenti dei processi di statistica ufficiale e anche come fruitori dell'informazione però spesso in modo solamente indiretto ora da tanti anni istat invece sta investendo nello stabilire un dialogo con i cittadini nel includere i cittadini in nel processo statistico in un'ottica citizen in the loop e quindi questo tipo di rapporto si è fortemente consolidato e si sta sempre più consolidando ora la citizen science può effettivamente rivestire un ruolo importante da questo punto di vista e rafforzare ulteriormente oltre che far evolvere questo tipo di rapporto quindi la prima domanda che vorrei alla professoressa pratesi che intanto ringrazio veramente di essere intervenuta su questo tema specifico è legata proprio a questo allora come la citizen science può cambiare il rapporto dei cittadini con la statistica ufficiale e quali sono gli elementi del dialogo che adesso sempre più si sta instaurando tra i cittadini e la statistica ufficiale che la citizen science può effettivamente portare prego grazie monica delle tue parole della introduzione che hai fatto sul mio lavoro e sulla relazione con istat che ormai da tanti anni che coltiviamo reciprocamente allora eh si parla di cittadini e di statistica ufficiale e intervengono dei termini in inglese citizen science citizen data di fatto eh i dati sono dei cittadini e per i cittadini questo eh in isti in istat e nel system lo si sa molto bene però c'è una sfida la sfida eh è la missione di trasformare le nostre città e comunità in luoghi che siano intelligenti e sostenibili in cui le persone amano vivere e lavorare in questo eh ci sono i dati generati dai cittadini che che sono così tanti che sembra di di poter dire che già abbiamo molti esperimenti di citizen science aperti ed è necessario quindi capirli e strutturarli in maniera che sia intelligente e utile per la statistica ufficiale e quindi di conseguenza per i cittadini che sono al tempo stesso fruitori dei dati statistici e fornitori quindi questa è un po' la la citizen science è nata in ambito eh direi ecologico facendo presa sull'obiettivo eh comune sulla necessità di monitorare l'ambiente eh facendo presa sul senso civico e sul sentimento di appartenenza delle persone alla comunità in cui vivono qualità dell'aria quindi monitoraggio di specie animali sono stati l'argomento del coinvolgimento dei cittadini in raccolte dati in progetti di raccolta dati non strutturati molto tecnologici eh fatti con device costruiti apposta magari per misurare la qualità dell'aria e magari per osservare il comportamento di specie animali cioè i cittadini riescano a arrivare nei luoghi dove vivono a misurare dei fenomeni ambientali mettiamola così in senso più generale con degli strumenti che sono forniti però dall'istituto di ricerca ehm ovviamente si riesce a arrivare laddove magari una raccolta dati standard strutturata non riuscirebbe eh a arrivare però eh lo schema che è quello del reclusamento dei cittadini raccolta dati e poi alimentazione di un database diffusione dei risultati e poi riconoscimento ricompensa pubblica se si vuole è uno schema che la statistica ufficiale conosce non solo da anni direi da decenni forse da secoli per certi aspetti allora le leve sono le stesse che portano i cittadini a eh collaborare per la raccolta dei dati statistici ufficiali per le rilevazioni del piano statistico nazionale la differenza è che se si è coinvolti in rilevazioni eh del piano statistico nazionale abbiamo il diritto dovere di partecipare mentre per la citizen science eh la partecipazione è volontaria e questa è una prima diciamo mh notazione da tenere ben presente è vero anche che sappiamo tutti piuttosto bene qual è l'evoluzione dei tassi di risposta per le indagini diciamo così ufficiali fatte sulle famiglie e sulle imprese quindi mi viene da dire e lo voglio sottolineare che forse è proprio il momento di eh coinvolgere maggiormente i cittadini nel processo di produzione dei dati facendoli diventare da rispondenti collaboratori coproduttori direi con una nuova consapevolezza eh che è è una sottolineatura del fatto che i dati comunque sono loro mh sono di loro proprietà e sono un bene comune al tempo stesso perché servono per il buon governo di conseguenza direi che il dialogo è già aperto ma che servono tre elementi nuovi per eh renderlo attuale intanto rendiamoci conto che i dati dei cittadini cosiddetti citizen data sono dati i nostri che viviamo in città che sono sempre più smart per per utilizzare questa parola che non è italiana ma che rende l'idea sono smart cities dove si usano smart devices strumenti che vanno da ehm i telefoni mobili al gps ma pensiamo eh tutte le volte che scannerizziamo un prezzo una quantità alla cassa del supermercato noi collaboriamo con i cosiddetti la generazione di dati dei cittadini ma eh non solo nel momento in cui si effettuano i consumi basta pensare eh i consumi dicevo di di cibo al supermercato pensiamo a consumi di energia elettrica acqua gas mh ai contatori che eh alimentano sicuramente eh dei database con dati sui consumi di energia e poi la mobilità urbana i trasporti insomma i telefoni cellulari il gps il commercio elettronico le piattaforme dati tutto questo genera dati che hanno eh la qualità di essere dati dei cittadini ottenuti in esperimenti non ancora molto ben compresi ma che io assimilerei volentieri perché credo che ci sia una bella assonanza con i progetti di citizen science allora rimane mh da eh educare i cittadini alla coproduzione dei dati ora chiaramente che eh è chiaro che i cittadini non sono gli unici interlocutori perché i dati che loro generano poi si ehm sostano su piattaforme chiamiamole così quindi chiamiamo in causa anche altri interlocutori eh tengo a dire e Monica lo sa bene tuttoressa Scannapieco è consapevole che molto è stato fatto per l'utilizzo dei cosiddetti big data nell'ambito della statistica ufficiale però senza pensare al ruolo che i i possessori dei dati proprietari potrebbero avere come coproduttori anche in relazione al mondo delle imprese e delle istituzioni ehm insomma eh faccio un esempio legato alla città che conosco più da vicino che a Firenze a Firenze c'è un progetto di smart city control room che mette insieme eh gli operatori di servizio la città eh la polizia i parcheggi la gestione delle strade del trasporto pubblico con chi fornisce servizi cioè gli operatori della mobilità le compagnie di taxi ehm chi eh lavora nel turismo e gestisce i bus turistici gli operatori logistici cioè insieme per poter garantire ai cittadini dei servizi migliori usando al tempo stesso i dati che i cittadini creano con la loro vita quotidiana. Allora è chiaro che è necessario fare delle operazioni eh di eh stesura di contratti chiari eh perché sia soprattutto ehm protetta la privacy eh di chi eh vive e mentre fa delle attività di vita quotidiana genera dati che hanno un interesse importante assoluto direi per la statistica ufficiale. Ora su come fare qualche risposta eh ci viene dalla Commissione europea eh c'è un data act che eh sarà è già discusso da da più di un anno ma comunque eh arriverà sui tavoli dell'Istat e del Sistan è già arrivato credo e qui è chiaro che eh i responsabili delle decisioni a tutti i livelli di governo insieme all'organizzazione insieme alle reti di città e comunità di tutte le dimensioni cioè dei posti dove le persone vivono locali eh amministrazioni locali in questo senso perché si arriva proprio alle città chiedono una cooperazione forte per eh realizzare esperienze come quella che ho citato di di Firenze insomma simili e stesse anche ad altri ambiti eh in maniera tale che si realizzi veramente quello che il data act vorrebbe cioè che ci sia un passaggio di dati da eh si chiama con acronimo B2G cioè Business to Governance in maniera tale che si si rinnovi il dialogo tenendo conto anche di questi interlocutori che forse dieci, venti, trenta, cinquant'anni fa non c'erano ma adesso ci sono e e vanno vanno considerati cioè per evitare che sarevi poi e poi mi chiedo scusa Monica a far sì che i dati siano una sorta di materia prima a costo zero eh più o meno contrabbandata sempre talvolta nel rispetto della normativa della privacy che per Istat e Sistan è obbligo ovviamente ma altrove insomma non dico perché non conosco però mi permetto di 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 mettere dei punti di domanda e quindi è necessario che si tenda insieme a un mercato etico dei dati tanto più nel caso della statistica ufficiale. Assolutamente sì grazie Monica già va questa tua prima risposta veramente tante sollecitazioni. Sottolineo alcuni eh alcuni elementi della tua risposta che che veramente ritengo importanti anche per per chi ci sta ascoltando. Allora da un lato tanti dati come come appunto ci raccontava la professoressa Pratesi ma che in qualche modo possono essere eh acceduti senza un un elevato carico da parte dei dei cittadini stessi. Molti di questo di questi dati sono eh di sensoristica cosiddetta passiva quindi c'è anche da parte del cittadino la possibilità in qualche modo di liberarsi per alcuni versi da obblighi e oneri che magari sono più legati alle forme tradizionali di interazione con la statistica ufficiale. E molto importante come ha sottolineato Monica il ruolo di coproduttori del della statistica. Il rapporto che effettivamente si deve instaurare con i cittadini è un rapporto di questo tipo e e appunto come suggeriva la professoressa Pratesi avere una sorta di personal data spaces di spazi dati dei cittadini eh in cui siano i cittadini stessi a poter gestire i propri dati potrebbe essere effettivamente una direzione importante anche nell'ottica europea del del data act eh che appunto veniva citato in cui effettivamente il discorso di eh data spaces spazi dati comuni è già presente eh sia in rapporto a privati ma perché no anche nel caso di dati pubblici laddove la necessità di garantire la protezione di questi dati è un trattamento eh rispettoso sia della privacy sia dei principi etici che noi abbiamo ecco richieda di costruire degli spazi dati che consentano effettivamente la gestione di questi dati in maniera propria. Questo punto ecco ci siamo già. Posso aggiungere una cosa Monica? Eh no. Eh questa allora è giusto gli spazi dati eh e sarà eh a mio modo di vedere il futuro è il ruolo di coproduttori però il patto con i cittadini deve essere chiaro cioè loro donano dei dati definirei così donatori di dati e in cambio forse o lo fanno per un motivo etico forte che è quello di contribuire a costruire un bene pubblico un bene comune come è quello dei dei dati i dati statistici lo sono quelli ufficiali dell'istat del system lo sono o altrimenti devono avere qualcosa in cambio cioè un miglioramento della qualità della loro vita e ovviamente il patto deve essere tuteliamo la riservatezza manteniamo il diritto all'oblio costruiamo delle regole unificate nel system per la gestione dei dati lavoriamo per avere dei dati che siano portabili cioè che non debbano essere richiesti cento volte insomma un sacco di volte alla stessa persona e poi raccogliamo solo i dati che servano secondo il principio della minimizzazione cioè solo i dati limitati al raggiungimento dell'obiettivo quindi è necessario fare una progettazione concettuale molto attenta non prendere quel che c'è no ma riflettere su quello che serve e prenderlo laddove è utile e più facile prenderlo con la collaborazione e la consapevolezza da parte del cittadino rispondente coproduttore e poi facendo un investimento in qualità perché il patto è tutela della riservatezza miglioramento della qualità della mia vita perché conosco più cose ma anche voglio conoscere queste cose secondo una qualità statistica un profilo di qualità statistica che forse deve essere un po' rinnovato se ci sono nuovi processi di produzione dei dati magari anche il profilo di qualità non deve essere solo legato all'accuratezza alla rilevanza ma forse anche l'accessibilità dei dati va ben regolamentata e il rispetto della privacy sicuramente poi ci sono degli ambiti applicativi perdona l'entusiasmo monica che non possano essere lasciati indietro cioè sono urgenti e legati all'esame della mobilità sostenibile dell'efficienza energetica della produzione sostenibile dell'aria pulita dei servizi pubblici digitali efficienti dell'accessibilità ai servizi agli edifici perché anche questo è un tema che si presta bene a delle dei disegni di citizen science la gestione dei rifiuti insomma quello che io direi è che il coronamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile i famosi SDGs potrebbe passare tramite dei progetti sperimentali anche per le experimental statistics nei quali si coinvolgono i cittadini per raccogliere dei dati specifici vicini al posto dove loro vivono utili in vista di quegli ambiti applicativi che si che si di cui si diceva prima del resto tutto il processo del del BES degli indicatori di benessere eco e sostenibile è nato con una consultazione non solo dei cittadini ma anche delle istituzioni e delle istituzioni pubbliche e private anche convolte nella nelle nelle dimensioni nell'individuazione delle dimensioni della qualità della vita sì direi che i tempi sono proprio maturi posso dire che non solo ti perdono l'entusiasmo ma lo condivido pienamente perché effettivamente ci sono tantissime cose che stiamo facendo ma tante altre che potremmo fare ecco una delle cose che appunto dicevi legata al ritorno sui cittadini i tanti modi in cui sui cittadini si può ritornare effettivamente apportando apportato a degli studi specifici sui meccanismi di incentivazione che magari possono appunto concretamente portarci rafforzare questo tipo di rapporto che vorremmo avere con i cittadini per esempio nell'ambito delle smart survey in cui appunto abbiamo un'indagine diciamo tradizionale però proviamo nell'ambito di un'indagine tradizionale a raccogliere anche ad esempio dati da sensori come dicevamo prima però per fare questo e per avere un coinvolgimento dei cittadini e soprattutto per creare questo tipo di rapporto e quindi anche un ritorno sui cittadini quindi averli pienamente nel processo di produzione c'è sicuramente anche questo aspetto di meccanismi in cui il cittadino può essere coinvolto ad esempio con strategie di gaming ma perché no anche con ritorni sul cittadino di prodotti che al cittadino interessano direttamente per esempio legati all'uso del tempo libero piuttosto che legati ad attività sportive che il cittadino può fare che quindi l'istituto di statistica può aiutare insomma a gestire esattamente come di modo da supportare ecco anche da un punto di vista statistico il cittadino stesso nelle proprie attività quindi sicuramente anche questo è un aspetto e un'altra cosa che insomma mi piacerebbe affrontare con te perché l'hai già toccata però secondo me particolarmente importante e nuove eh nuove piattaforme nuovi soggetti coinvolti ehm come dire per realizzare tutto questo e anche per realizzare appunto alcuni dei progetti degli ambiti applicativi che citavi che sono sicuramente importanti però anche molto nuovi in alcuni casi un po' meno in altri un po' di più per per la statistica ufficiale e come facciamo concretamente a portare avanti i progetti di questo tipo sicuramente non da soli ecco perché effettivamente abbiamo bisogno di tanto da un punto di vista di eh competenze da un lato di supporto dall'altro ma anche proprio gli attori gli stakeholder coinvolti sono tanti quindi come possiamo muoverci eh secondo te in termini di investimenti concreti che possiamo fare per sostenere un programma di questo tipo che come dicevamo è bellissimo entusiasmante però è anche molto importante ecco da un punto di vista di investimenti sì beh intanto eh impariamo da chi ha già fatto qualche esperienza questo è eh beh insomma di base direi ehm e io investirei nella conoscenza eh di quello che sta succedendo proprio seguendo la strategia business to governance per la eh condivisione dei dati dalle imprese istituzioni private verso il il governo seguirei quello che sta succedendo guidato da la commissione europea ci sono stati nel duemila ventuno cioè quest'anno cinque workshop eh con coinvolgimento delle città e delle amministrazioni locali di grandi comuni e di piccoli comuni e i comuni sono degli interlocutori importanti mi sembra nel system eh eh esperienze non solo italiane ovviamente sono state rappresentate in quella sede e quindi insomma intanto si potrebbe riuscire a capire che cosa si sta muovendo attorno a noi e in questi workshop si è parlato di altruismo dei dati ma anche di acquisto di dati hm di contratti di licenze di accordi di ehm piscine di ehm condivisione di dati che era un po' quello che dicevi eh tu prima certamente eh servono delle delle norme delle regole e eh forse anche ehm delle leggi che permettano per esempio d'avere un accesso ai dati ehm dell'energia perché quello eh sarebbe molto importante per non solo per avere eh dati statistici nell'ambito sociale diciamo così ma anche nell'ambito economico forse già c'è questo però ehm non si può partire eh da zero insomma è necessario costruire un apparato normativo attorno a a queste iniziative e poi eh siamo nel system eh parliamo di polo strategico nazionale eh e di amministrazione coinvolte in questo perimetro e certamente eh riuscire a inserire questo tema in un dibattito di questo genere creerebbe sinergie e ridurrebbe di sicuro di sicuro i costi. Siamo nell'ambito dell'investimento del PNRR, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza che si chiama infrastrutture digitali. Allora già che ci siamo se Istat e Sistan avranno un ruolo in questo e credo che lo avranno beh cerchiamo di capire anche come si può mh ottimizzare se posso usare questa parola. E poi c'è l'economia delle piattaforme digitali e ci sono aziende ora io ne cito qualcuna non tutte abbiate pazienza eh Amazon, Facebook, Google, Uber per per pescare un po' da dappertutto e questi stanno creando delle infrastrutture online che eh rendono possibili tante attività umane. Pensiamo a Uber, i tassisti me ne vorranno però eh in senso generale i trasporti eh sono regolarizzati anche dai servizi eh taxi quindi anche loro hanno se vuoi un posto in questa economia delle piattaforme digitali per non far torta a nessuno. E questo eh su questo l'istituto secondo me e il Sistan non possono rimanere indietro devono aver chiaro come eh interagire cioè cercare di interagire con questi interlocutori internamente attrezzandosi come del resto l'istituto ha già fatto con questo centro interdipartimentale per le trusted smart statistics però costruendo anche un un contatto e delle ehm delle interlocuzioni con questi gestori di piattaforma. È un ambito tutto da studiare eh io non ho eh la soluzione però certamente non possiamo rimanere indietro eh si tratta di imparare facendo mh per non rimanere indietro. Trovare una serie di studi di caso e andare avanti vedere cos'è necessario fare per ehm promuovere i cittadini dal ruolo di fornitori senza una particolare etichetta rispondenti a quello di coproduttori. Non ci dimentichiamo della ricchezza degli archivi amministrativi che sono già usati per produrre le statistiche ufficiali che rischiano di rimanere statici però se non alimentati in continuazione. Assolutamente sì. Se non inseriti in un processo dinamico come come quello che stavi descrivendo. E quindi riprendo due cose di questa ultima di quest'ultimo intervento che effettivamente eh ci danno la dimensione di come ci potremmo muovere. Quindi tu dicevi strategia dati nazionale intanto. Quindi facciamo sinergie con le altre pubbliche amministrazioni. Facciamo prima detto sinergie all'interno del system e poi con le con le altre pubbliche amministrazioni. Ci muoviamo in una strategia dati europea che abbiamo citato e che quindi anche lì abbiamo tanti facilitatori da un punto di vista di ehm di apparato sia legislativo sia anche eh eh verso nuovi modelli di business no? Tu hai citato eh l'economia delle piattaforme digitali che effettivamente poi richiede che anche noi entriamo in un'ottica di nuovi modelli di interazione eh con con altri soggetti. Questi li hanno sperimentati in ambito eh appunto economia delle piattaforme digitali però appunto anche noi in qualche modo dobbiamo rientrare in un'ottica nuovi modelli di business per avere delle eh partnership di tipo più consolidato. Quindi eh in qualche modo forse potremmo potremmo dire abbiamo tanto davanti però è una macchina avviata no? In qualche modo forse è talmente avviata che che ha proprio senso che continuiamo a a investire e immagino appunto tu citavi il centro per le tassi di smart statistics che è questo eh investimento Istat proprio per cercare di eh veicolare il più possibile verso la produzione questi progetti che aiutino a a a mantenerci al diciamo mantenere alti livelli di eh di competitività con gli altri settori e di collaborazione con i cittadini di modo da produrre statistiche che siano sempre. Un'ultima cosa visto se mi mi riaggancio a quello che dicevi eh giustamente tu hai detto che c'è alla fine un modo europeo di di lavorare. Questo modo europeo è eh un modo che trasforma certamente digitalmente le città e le comunità e anche la statistica ufficiale. Questo però eh nel rispetto dei valori della diversità dell'Europa e anche dei diritti digitali degli individui cioè i cittadini sono i detentori, i possessori, i proprietari hanno dei diritti digitali che devono essere riconosciuti e rispettati. Mi sembra un un ottimo modo di intervenire questa intervista perché lo condividiamo pienamente, lo condivide pienamente Istat e eh ringrazio davvero la la Monica, la professoressa Fratesi per questa bella intervista e per questa condivisione che speriamo sia utile per tutti. Grazie ancora. Grazie a te, grazie. Grazie a te, grazie.